Il day after alle stanze dopo il violento scoppio con successivo incendio che ha interessato l'ala sud della scuola primaria dell'infanzia che ha parzialmente distrutto e reso inagibile lo stabile. L'amministrazione comunale di Sequals ha lavoro per riportare alquanto prima i 40 bimbi della materna classe primaria nella loro casa. Al momento non ci sono strutture idonee per l'accoglienza provvisoria secondo le esigenze dei suoi usufritori, ma il Comune con gli uffici preposti sta valutando tutte le soluzioni per ripartire in tempi brevi. Intanto si indaga sulle origini del rogo, esclusa la pista dolosa. Tra le ipotesi un cortocircuito all'impianto di alimentazione elettrica che avrebbe innescato il tutto come un effetto domino.